L'amico è fottuto ora. Ti sei ripulito l'organismo da quella bevanda non autorizzata? Di chi era il turno di guardia, Suov? Era il mio. Era il tuo. Visto che non sai gestire le tue responsabilità, ho pensato di degradarti. Da ora sei un soldato semplice. Credi di essere l'unico a romperti qua giù? Quando il bordello comincerà, e stai certo che comincerà, non voglio che sia tu a coprirmi il culo. Indovina che succede ora. Istruzioni per bruciare efficacemente i cessi. Il Marine necessiterà dei seguenti articoli. Un palo coperto di metallo, un paio di guanti rassaldatore, cinque galloni di gasolio e una scatola di fiammiferi. Fermati lì, Marine. E così tu sei quell'idiota che per poco non mi mandava a fuoco il campo. Sì, signore. Rimettilo lì dentro. Ma è già pieno di gasolio, signore. Non mi frega se è pieno di Chanel numero cinque. Non mi sbatto dall'altra parte del campo per il mio fiore del mattino. Rimetti dentro il bidone. Sto aspettando. Io ho lasciato un regalino lì dentro. Non troppo duro, non troppo morbido. Perfetto. Grazie, signore. Buone vacanze, soldato. 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 Grazie a tutti.